Buongiorno a tutti, continuiamo con il percorso di brevi conversazioni che come dialoghi europei ci siamo immaginati in questo periodo che è particolare, in cui però lo stesso vogliamo cercare di restare in contatto con chi ci ha seguito in questi mesi e in questi anni. Sapete che la scorsa settimana abbiamo avuto modo di dialogare con Brando Benifei, capo della delegazione italiana nel gruppo socialista e democratico all'Europarlamento e con oggi iniziamo invece un ciclo di più incontri attraverso i quali cercheremo di capire cosa sta succedendo nei paesi europei che come l'Italia sono colpiti in queste settimane dall'emergenza del coronavirus, cercheremo di capire similitudini e differenze e forse così facendo anche avremo modo di ragionare un po' su che cosa succederà, su che cosa possiamo aspettarci anche nel prossimo futuro. Oggi parleremo di Spagna, il paese che forse in questo momento oltre all'Italia è maggiormente colpito da questa crisi, la Spagna è stata molto presente anche nelle notizie che abbiamo avuto modo di leggere nei giorni scorsi e lo facciamo con un nostro vecchio amico che ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Steven Forti, ricercatore di Trento, ricercatore presso l'Istituto di Storia Contemporanea dell'Università Nuova di Lisbona e professore a contratto presso l'Università Autonoma di Barcelloma. Steven è già stato nostro ospite negli anni scorsi quando abbiamo avuto modo di dialogare con lui sulle questioni della Catalonia e sulla difficile situazione che negli ultimi anni si è creata nella penisola iberica proprio per quel che riguarda le relazioni tra lo Stato centrale, Madrid e la Catalonia e abbiamo quindi pensato oggi di chiedergli un breve commento insomma su quella che è la situazione spagnola un commento basato ovviamente un po' sia sul fatto che è persona informata dei fatti per così dire sia per il fatto che è persona che un po' anche li vive in prima persona. Quindi innanzitutto Steven benvenuto e grazie mille per aver raccolto il nostro invito Buongiorno, ben ritrovati, un piacere essere di nuovo con voi E diciamo proprio per iniziare volevo un pochino chiederti qual è la percezione della situazione da parte della popolazione spagnola, qual è un po' il clima, qual è la situazione certo poi andremo anche in un esame un pochino più fattuale della situazione ma volevo iniziare proprio con il capire un po' qual è l'aria che tira in Spagna in questo momento, in questi giorni C'è grande preoccupazione ovviamente perché la Spagna da ormai già qualche giorno si è convertita nel secondo paese europeo dopo l'Italia con il maggior numero di contagi ed anche di morti Anche nel numero di morti è ormai superato anche la Cina Oggi parliamo di giovedì 26 marzo I contagi sono ormai più di 56 mila e i morti più di 4 mila in tutta la Spagna Ovviamente sui contagi ma come anche nel caso dell'Italia sono quelli contabilizzati Poi in realtà la diffusione reale del virus tra sintomatici o le molte persone che magari sono semplicemente in casa e non hanno mai fatto nel tampone ne sono contabilizzati e sono malate sono probabilmente molti di più Allora c'è molta preoccupazione perché questi sono assolutamente i giorni più duri Vedremo di quanti giorni si tratterà Negli ultimi giorni il numero per esempio dei decessi è aumentato molto Parliamo di 700 più di 600 decessi in sole 24 ore L'unica notizia positiva per così dire è che nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è diminuito Bisognerà capire se questo è un trend Diciamo è l'inizio di un nuovo trend O se invece avremo di nuovo un aumento delle vittime per Covid-19 Quindi direi in primo luogo la preoccupazione Dall'altro la maggior parte degli spagnoli è chiusa in casa Come in Italia ci fu l'hashtag Io resto a casa in Spagna Quedate in casa Rimani a casa E l'hashtag più presente Ricordo a questo proposito che lo scorso 14 marzo Il premier socialista Pedro Sánchez ha decretato l'estato di allarma Ossia lo stato d'emergenza Con una serie di restrizioni molto simili a quelle vigenti in Italia da più giorni Ben prima della Spagna Ossia è concesso uscire di casa solo per andare a fare la spesa Andare in farmacia O per impegni di lavoro Non procrastinabili nel caso in cui Non ci sia la possibilità dello smart working da casa Quindi per fare un esempio con anche una questione Sulla quale si è dibattuto molto in Italia In Spagna fin dal primo giorno delle restrizioni decise dal governo Non è possibile andare a passeggiare o a fare una corsa O a fare dello sport Quindi direi che gli spagnoli hanno preso coscienza abbastanza rapidamente Dal 14 marzo della serietà della situazione Del fatto che rimanere in casa è indispensabile Ed è la prima maniera per combattere l'espansione del virus Ovviamente ciò non toglie che ci siano denunce Per persone che escono di casa senza apparente ragione Nei primi dieci giorni di vigenza dello stato d'allarme Si sono contate, almeno per quanto è uscito sulla stampa Circa 100 mila denunce Ma direi che sono i dati bene o male simili A quelli che provengono anche dall'Italia Quindi come percezione della popolazione E come momento attuale ti direi questo Un momento molto duro La percezione è quella della serietà della situazione Della preoccupazione ma anche della presa di coscienza Che tutti devono fare qualcosa anche nel loro piccolo Rimanendo in casa Per evitare non solo l'aumento dei contagi Ma dall'altro come si sta vedendo anche in Italia Il rischio di collasso del sistema sanitario E soprattutto a Madrid Che è l'epicentro Questa è forse la seconda domanda Che volevo farti Diciamo Quella che è stata la reazione delle autorità In parte hai già risposto Spirando che Diciamo la situazione attuale A livello di interventi Fatti è forse abbastanza simile A quella italiana Aggiungo anche perché probabilmente Ormai un po' l'impressione che c'è E che molti paesi europei Iniziando qualche giorno dopo Rispetto all'Italia Abbiano anche avuto modo di vedere Un pochino cosa succedeva in Italia E quindi anche un pochino agire di conseguenza Almeno così una prima percezione Che si è avuta Volevo chiederti Tutto sommato ti pare che Le autorità in questo caso Soprattutto forse il governo centrale Abbiano reagito Tempestivamente E poi ancora un quesito Che forse è specifico Ci sei già arrivato Mentre nel caso dell'Italia Il focolaio grande E la Lombardia Ma all'interno del focolaio Lombardo Forse il grande sforzo Che si sta facendo È evitare che il centro del focolaio Diventi l'area metropolitana di Milano Quindi sta dicendo Cerchiamo di reggere Su Milano Forse nel caso della Spagna Correggimi se sbaglio Uno dei problemi Che rende anche Complicato E che forse ispira Anche il perché Di questa esplosione Di casi Sta nel fatto Che il focolaio principale È proprio nella Nella capitale È proprio a Madrid È corretto questo? Sì 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 L'epicentro è a Madrid Che riunisce Praticamente un terzo Dei contagiati E più o meno quasi la metà Dei decessi Fino ad ora In ogni caso Anche in Catalogna Stanno aumentando Rapidamente i contagiati Sono più di 11 mila Al giorno d'oggi E i morti Si avvicinano Quasi al migliaio E poi vengono Paesi baschi Andalusia Certo Essendo Madrid L'epicentro Ed essendo anche la Spagna Soprattutto le sue vie di comunicazione Costruite in forma di raggera Partendo dal centro Della capitale È abbastanza comprensibile Che sia stato facile Anche diciamo L'espansione Dei contagi Tenendo conto anche Del tempo Che ci mette spesso Il covid-19 A che ci siano Dei sintomi Percepibili In una persona Per quanto riguarda Il governo Qui ci sono varie considerazioni Da fare Da un lato C'è una questione Che non riguarda Solo la Spagna Ossia fino a Il 10 11 Più o meno 12 O anche di più A seconda dei paesi Come l'Inghilterra Di questo mese di marzo Si vedeva L'emergenza coronavirus Quasi come un problema Cinese O poi solo italiano E quindi Fino a pochi giorni prima Dall'aver decretato Lo stato di emergenza Ricordo Il 14 marzo In Spagna La popolazione Viveva più o meno Con normalità E anche dai governi Non solo quello nazionale Ma anche quelli regionali Si cercava di non creare Allarmismo E di dire Che qui non c'erano Grandi problemi Quindi Se da un lato C'è una parte positiva In questo Che è Comparato con l'Italia Il fatto che Non si sia creato Un allarmismo Quando il virus Si trovava solo In Cina In Italia Se ne parlava Dedicandogli Metà dei telegiornali Già dalla fine di gennaio Dall'inizio di febbraio Creando quasi una psicosi In Italia Prima che arrivassero I primi contagi E in Spagna Così come credo Anche in altri paesi europei Questo non si è dato Ma dall'altro lato C'è anche un lato negativo Il fatto che La percezione Del pericolo Da parte della popolazione Sia stata molto più lenta E la presa di coscienza Sia stata Diciamo Di colpo Quando sono state Approvate le misure Sul fatto che L'Italia Sia un po' Il modello Non c'è dubbio Non c'è dubbio Perché è stato il primo paese occidentale Ad aver affrontato Questa crisi E ovviamente Si sta guardando Per quanto poi Si adatti Alla realtà Nazionale spagnola Le decisioni Prese in Italia Direi che A grandi Misure Bene o male Le misure Attualmente Approvate Sono le stesse Non solo per quanto riguarda Le restrizioni Ma anche Per cercare di paliare Le ricadute Economiche e sociali La settimana scorsa È stato approvato Uno scudo sociale Quello che sarebbe La versione spagnola Del decreto Cura Italia Che mobiliterà Fino a 200 miliardi di euro Parliamo del 20% Del Pile spagnolo 117 di questi Sono pubblici Gli altri 83 Verranno da risorse private Ora ovviamente Bisognerà capire Come si applicheranno Queste misure Si sta procedendo Ovviamente Di settimana in settimana In diversi Anche consigli Di ministri Sul tavolo Ci sono anche Misure Non ancora approvate Che però credo Davvero importanti E che dimostrano In ogni caso Che quello in Spagna È un governo Di coalizione di sinistra Che quindi Nutre una forte preoccupazione Per quelli che sarebbero Gli ultimi I più deboli Le persone Diciamo Che verrebbero colpite Sono colpite di più Dalla crisi E soprattutto poi Dalla futura recessione Che vivremo Che è La possibilità Di un reddito di base E una moratoria Sugli affitti E mi sembrano cose Particolarmente interessanti Soprattutto poi La seconda Tenendo conto Che in Spagna Si viveva Nell'ultimo lustro Con una bolla Degli affitti Soprattutto nelle grandi città Affitti che sono cresciuti Dal 2014 in poi Di oltre il 40% A Barcellona Madrid Quindi Questo pesa Notevolmente Su La situazione Delle famiglie Ancora di più In questa fase E dall'altro Credo che ci sia anche Da aggiungere Un'altra questione Che è diversa L'Italia Per ora Vedremo nei prossimi giorni Il governo spagnolo Non ha deciso Di chiudere Le attività produttive Ci sono state richieste In questo senso Sia ovviamente Dai sindacati Sia anche Da alcuni partiti politici Soprattutto all'opposizione Per ora però C'è anche un grande dibattito All'interno dell'esecutivo Tra un settore Più diciamo Fedele All'ordoliberismo Per capirci Tedesco Tedesco Che ha segnato Le politiche Dell'Unione Europea Fino a poco tempo fa Adesso sembra Che stia cambiando E un settore invece Più spostato a sinistra Che non sarebbe rappresentato Solo da Unidas Podemos Ma anche da alcuni ministri Alcuni settori Dello stesso partito socialista Quindi bisognerà vedere Qual è un pochino Il punto di caduta E che E che decisioni Alla fine si prenderanno Anche vedendo gli sviluppi Dell'emergenza In ogni caso Sanchez In un discorso Alla nazione Sabato scorso Ha ribadito Una volta ancora Che nessuno Sarà lasciato da solo E che L'obiettivo Del governo È quello di proteggere Appunto Le persone Che più possono soffrire Per questa crisi Quindi mi sembra comunque Un messaggio Diciamo importante E per chiudere Se è vero che Si può Considerare magari Che anche Il governo spagnolo Come i governi Di Parigi O di Londra O anche di Berlino Hanno reagito tardi Vedendo quello che succede In Italia C'è anche Da dire che a partire Dal 14 marzo Quando è stato Approvato lo stato D'emergenza Parentesi Che ieri È stato Prorogato in Parlamento Per altri 15 giorni E sarà dunque Queste misure Saranno valide Fino al 12 aprile Però Diciamo che Se forse Si è reagito tardi Dall'altra C'è anche da dire Che dal 14 marzo In avanti Si è proceduto Con fermezza E passo spedito Senza nulla Togliere Che è un'emergenza Inaspettata A cui tutti Erano impreparati E che per usare Una metafora Diciamo ma Del mare Ci troviamo Noi Si trovano tutti i governi In un oceano Senza bussole Senza cartine Quindi ovviamente Errori ce ne sono E ce ne saranno E ce ne sono stati Ma mi sembra Che nel complesso Si stia cercando Di fare il meglio possibile Ok Allora Grazie intanto Per averci Chiarito un po' La situazione Anche per quel che Riguarda il quadro Politico Nazionale Diciamo L'ultima domanda Che Penso sia interessante Sia alla luce Delle cose Di cui ci siamo occupati Assieme in passato Sia alla luce Della situazione Italiana E quella Del rapporto Fra Lo Stato centrale E Le autonomie regionali Nel senso che In Italia In queste settimane C'è stato Qualche momento Di frizione Anche comprensibile Come dicevi tu Perché comunque appunto È una situazione Del tutto nuova Per tutti Però diciamo che C'è stato anche Un dibattito Su cosa dovrebbe fare Lo Stato Su cosa dovrebbero Fare le regioni In questo momento Di crisi E forse anche Un po' in prospettiva E volevo chiederti Quindi ero curioso Di sapere Se c'è stato Se c'è un dibattito Simile Anche in Spagna Penso per esempio Penso per esempio Al caso Della Catalonia Dove Diciamo Negli anni scorsi Era comunque Già presente Il tema Delle relazioni Per dirla Molto In breve Ma volevo capire Se questo tema C'è O semplicemente Se invece Lo Stato centrale E l'autorità centrale Che detta I tempi Della risposta Alla crisi E con il resto Delle istituzioni Che seguono A grandi linee La situazione Possiamo dire Che è simile Voglio dire Che al netto Dei differenze Storiche Culturali E di organizzazione Territoriale Dello Stato Tra Italia E Spagna Gli screzzi Le tensioni E anche i dibattiti Sono presenti E si innestano In una situazione In un contesto Come quello Spagnolo Che è segnato Potremmo dire Da sempre Nell'epoca contemporanea Ma sicuramente Nell'ultimo decennio Da notevoli tensioni Riguardanti Soprattutto Il conflitto Catalano E la rivendicazione Indipendentista A Barcellona Quindi Da un lato Lo Stato E l'estado D'allarme Ossia lo Stato D'emergenza Previsto Dall'articolo 116 Della Costituzione Spagnola Accentra i poteri Nel governo Sia nella figura Del Presidente Del governo Sia il socialista Pedro Sánchez E in un'equip Di ministri Scelto dal Presidente Che sono Attualmente Il ministro Ovviamente Della Sanità E il ministro Della Difesa E il ministro Degli interni E il ministro Dei trasporti Quindi Queste sono le persone Che stanno accentrando Particolarmente Le decisioni Insieme ovviamente A tutto il consiglio Dei ministri Ciò non toglie Che in alcune questioni Per quanto le decisioni Siano centralizzate In primo luogo Per quanto riguarda La sanità O la decisione Per esempio Di confinare Delle città O dei territori Più ristretti Che sono magari Dei focolai Di contagio E su questo C'è un dibattito In Spagna Sia per quanto riguarda Madrid Sia per quanto riguarda Alcune Alcuni paesi Qui all'interno Della Catalogna In ogni caso Però Le regioni Ossia le comunità Desautonomas Che sono tutte regioni Con un'ampia autonomia In Spagna E hanno ampie competenze Molto più che in Italia Hanno Mantengono comunque Il controllo Della sanità A livello regionale Dunque Devono avere Un imprimatur Per alcune decisioni Evidentemente In questa situazione Di E stato di allarma Dal governo E dal ministro Della salute Però Ad esempio Per fare un esempio Molto semplice In questi giorni C'era un grande Un grande dibattito E anche delle critiche Riguardo all'acquisto Di materiale sanitario Di cui c'è grande carenza Ossia mascherine Tamponi Test Respiratori Eccetera E La regione Della Catalogna Ha criticato Il governo Di Madrid Dicendo che Non lasciava La possibilità Alle regioni Di comprare Questo materiale Che la centralizzazione Della distribuzione Non sta funzionando bene Allora Al di là Che è possibile Che la centralizzazione Non funzioni bene Però il discorso È che questo È semplicemente Una menzogna Il fatto dell'acquisto Le regioni possono Nel frattempo Al di là Del fatto Che lo Stato Sta cercando Di centralizzare Gli acquisti Cosa che sappiamo Che è molto difficile Sul mercato internazionale In questo periodo Che bisogna ricorrere Soprattutto la Cina Da quel che sembra Però le regioni Possono muoversi Indipendentemente E parallelamente Allora Con questo Cosa voglio dire Che c'è stato In alcuni casi Soprattutto in due Il caso della Catalogna E della regione Di Madrid Che invece È governata Dal partito popolare Che è dunque Uno delle roccaforti Dell'opposizione Di destra Al governo Di coalizione Di sinistra Socialisti Unidas Podemos Nel caso Di queste due regioni C'è stato anche Ci sono state Una serie Spesso continua Di dichiarazioni Critiche Con il governo Che non sono Altro che elettoralismo È pur vero Che di fondo C'è anche una questione Quando Il 14 marzo È stato decretato L'estato di allarma Il presidente catalano Kim Torra E il presidente basco Iñigur Kuyu Hanno Fatto delle critiche Più o meno Esplicite All'estato di allarma Dicendo che era Una specie di Ricentralizzazione Nascosta Del decentramento Amministrativo spagnolo Allora Voglio dire È comprensibile Che ci possano essere Anche queste paure Però Teniamo presente Qual è la situazione D'emergenza E qui Il fatto Sulla questione Dell'elettoralismo È stato evidente Nei giorni successivi Perché se dal lato basco Urkuiu Poi Ha assolutamente Diciamo Abbandonato La strada Delle critiche Al governo E ha dato Piena collaborazione Alle misure Del governo centrale Incluso Il dispiegamento Dell'esercito Nelle strade Per coagliuare Le forze dell'ordine Non solo Nei controlli Ma anche Costruzione Di ospedali Da campo Piuttosto Che Aiuto Ai senza Tetto In un operativo In questo caso Coordinato Dal vice Premier E leader Di Podemos Pablo Iglesias Nel caso Invece Catalano C'è stato Una Continua Critica Almeno A parole Perché Poi Nei fatti Da quello Che si sa L'assessorato Alla sanità Catalano Sta collaborando Molto bene Con il governo Di Madrid Quindi Torniamo Sempre Alla questione Di mantenere Una certa Tensione Con dei discorsi Che si ascoltano Soprattutto In Catalogna Se fossimo Indipendenti Lo potremmo Fare Molto meglio Perché Il governo Di Madrid Invece Lo fa male Nel caso Di Madrid Della regione Autonoma Di Madrid Quello che Vediamo Invece È la critica Della presidenza Regionale Che è Del partito Popolare Quindi di destra Al governo Socialista Che lo sta Facendo male Però Io Diciamo Cercherei Di contestualizzare Queste critiche Tenendo presente Qual era Il contesto Spagnolo Non solo Dal punto di vista Delle tensioni Territoriali Ma anche Qual è il contesto Politico Con un governo Che si è formato A inizio gennaio Che è un governo Assolutamente nuovo Per la Spagna La prima volta Dalla fine Del franchismo Che c'è un governo Di coalizione Che tra l'altro Per la prima volta Vede I post comunisti Ossia Unidas Podemos Nel governo Al governo Dello Stato E quindi seduto Nel Consiglio Di Ministri Con un partito Popolare All'opposizione Di un governo Comunque Con una maggioranza Debole Nel Parlamento E in Catalogna Con un indipendentismo Che non ha più Una strategia politica E tra l'altro Che aveva già annunciato Elezioni regionali Anticipate Dunque Tutte queste dichiarazioni Vanno lette anche In questo Nell'elettoralismo Che si dà in Catalogna In vista di future elezioni Regionali Che ora vedremo Quando Quando si terranno Io credo Che in ogni caso Questa situazione Di screzi Tensioni Come anche D'altro canto Nel caso italiano Continueranno Detto questo Non credo Che portino A situazioni Di maggiore tensione Rimarranno Diciamo Proteste Formali E non Disobbedienze Invece A Alle direttive Che Stabilisce Il governo Durante lo Stato D'emergenza Per Diciamo Vincere Come si sta dicendo Sconfiggere Il virus Ok Grazie mille Anche per questa Ultima Risposta Che penso Sia stata Utile Per capire Un po' I rapporti Fra L'autorità Centrale E Le Autorità Regionali Io vorrei Ancora una volta Ringraziarti Insomma Per esserti preso Il tempo Per questa Chiacchierata Diciamo Che L'auspicio Che ci si possa Rivedere Presto Non solo Via Skype Ma Rivederci Di Di Persona Insomma Per poter ragionare Di un po' di cose Assieme Qua da noi a Trieste Speriamo 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 Che sia presto Speriamo Che Insomma Le nostre società Soprattutto Imparino qualcosa Da questa crisi Anche noi Come individui Diciamo che Non tutto rimanga Come prima Mi auguro che E sperando che Le vittime I decessi Siano Il minor numero Possibile Sia questo Anche insomma Che serva qualcosa A questa crisi Concordo Assolutamente Grazie mille Steven A presto